Io aspettavo Trinità, ora lei è un'etnità, lei è un dipendente, casomai, non vorrei... No, per dire, perché io ero pronto invece alla guerriglia. Eh già, ma ora tu devi affrontare Don Matteo e per te sarà molto più dura. Sarà molto più dura, non esiste nemico impossibile per me. Tu sei un lupo travestito da agnello, ma io farò cantare le mie pistole. Scusa, e mi sembrava una scusa. Queste sono due corte nevi? No, Paolo e Chiara sono, sono due. E lo levò. Ma io, Giovanotto... Tra te e tuo amico mi avete fatto un viso così, perché... Va bene. Però sai, Giorgio... Sì. C'è qualcosa... Cioè qualcosa mi dice che tu hai un peso nel cuore... No, io c'ho un peso nella testa che è un tutto l'ommaggio di me. No, tu hai un peso nel cuore di cui ti vuoi liberare. Perché non me ne parli? Decirò sì il peso. Vabbè, fammi fare sta lotteria, mi dobbiamo vestirmi da cavoio, le mutande, le dozioni, le dozioni, usare i pistole. Io sono bello, Don Matteo, sono bello. Sei buonissima. Mi me la fa un'ortesia, Don Matteo. Che mi piglia a fare il chierichetto con lei? Ah, sì, certo. E adesso perché mi farei pure un'ortesia. Sì, sì, sì. Mi pare che... Poi se ne vado, eh.